ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi vi propongo questo video dove in pratica parleremo della portion control diet e che cos'è la portion control diet è un regime alimentare con cui io mi trovo benissimo da diversi anni vi ho fatto già dei video sul sul canale dove vi faccio vedere quello che mangi un giorno di questo regime alimentare e siccome appunto francesca mi ha chiesto se potevo parlarne un pochettino di più ho deciso di farlo non entrerò troppo nei dettagli perché perché non è una cosa mia dietro ci sono intanto c'è è una dieta abbinata ad un esercizio che abbinata ad una determinata persona che è autun calabrese per cui non è che possa prendermi tutti i diritti io ecco insomma e poi in italiano l'hanno tradotta le ragazze di porti incontro il diet italia del gruppo facebook e quindi non posso dirvi tutto quello che c'è scritto perché loro hanno fatto un grande lavoro quindi se siete comunque interessati a questo regime alimentare io vi lascerò sotto in info box il link per il gruppo facebook il link per il video youtube che ha fatto anche bibi che è una delle fondatrici del gruppo facebook ed è una delle grandi di quelle che ha ce la faccio tradotto in italiano la guida per cui diamo a cesare quel che di cesare ok quindi vi lascerò tutto tutti i link qui sotto e niente e quindi poi potete anche se magari non mi sono spiegata bene se non avete capito bene se volete approfondimenti potete vedere i video di bibi altrimenti potete anche andare direttamente sul gruppo facebook iscrivervi e lì troverete tutte le informazioni la guida che è stampabile in italiano c'è anche la versione vegana e niente quindi poi anche nel gruppo le ragazze sono molto gentili ci sono ovviamente anche io se si hanno domande c'è sempre pronto qualcuno che risponde anche perché se non sbaglio sono più di 8 mila e quindi voglio dire qualcuno che risponde lo troverete sempre allora cominciamo subito per prima cosa questa dieta necessita di questi contenitori che sono molto belli li trovate sia su amazon che su aliexpress che su ebay e anche sul bibi coxon wear sul negozio di bibi insomma e sono di diversi colori questo in realtà è uguale a questo viola però è verde serve un'altra cosa e di diverse misure in questo momento non trovavo quello rosso però in pratica ce n'è uno verde che è questo che è per le verdure uno viola che è per la frutta quello rosso che è per le proteine questo giallo che è per i carboidrati poi c'è quello blu che per i formaggi per i grassi buoni e questo arancione che invece è per i semi e poi gli oli e i burri si possono misurare con il cucchiaino e come si inizia per prima cosa vabbè a parte leggere la guida cioè che dovete andare sul gruppo vi scrivete scaricate la guida cioè potete stamparla se la volete cartaccia come ho fatto io però potete anche scaricarla tenerla solo sul telefono come ho fatto finora e poi la leggete una due tre volte una volta che l'avete letta se avete ancora di dubbi potete fare delle domande ma vi viene spiegato praticamente tutto sulla guida quindi voglio dire se uno sta attento ce la può fare anche da solo per prima cosa bisogna calcolare la fa cioè bisogna calcolare la fascia in cui siamo perché ogni fascia ha un determinato tot di contenitori da poter utilizzare durante la giornata quindi non in un pasto come dice bibi ma durante tutta la giornata e ve li potete gestare come volete cioè per esempio se avete quattro gialli e voi normalmente a cena non mangiate carboidrati ma preferite a mangiarli a pranzo a colazione li mangerete a pranzo a colazione se invece preferite averne un po' in tutti i pasti ne avrete un po' cioè li dividerete in modo da averne un po' in tutti i pasti quindi questo qui è bella perché ognuno si può diciamo gestire come vuole altra cosa importante non serve la bilancia perché noi non andremo a pesare i cibi ma le andremo a misurare in questi contenitori sto guardando qua per non dimenticarmi niente sono varie formule che servono per calcolare la fascia perché dipende se una persona si allena regolarmente se non si allena regolarmente se fa un allenamento intensivo in base a quello c'è una formula da fare che praticamente parte dai chili e va a finire poi tramite delle moltiplicazioni delle addizioni e delle sottrazioni al calcolo delle calorie che ci serve per perdere peso oppure per il mantenimento ok a quel punto lì voi avrete questa tabella allora praticamente ogni tanto guardi in giù per sempre per i miei foglietti praticamente abbiamo questa tabella dove ci sono tutti i contenitori le varie fasce e il numero di contenitori per ogni fascia e anche il numero di cucchiaini al momento ci sono sei fasce quindi qualsiasi attività sportiva voi facciate e quindi se è molto molto intensiva riesce ad includervi ecco per ogni fascia abbiamo un numero come vi dicevo c'è un range calorico per esempio da 1200 a 1499 per intenderci e in ogni fascia voi avrete il numero di contenitori cioè il contenitore verde per esempio può avere 4 contenitori poi se si sale di fascia ne ha 5, 6 fino ad arrivare a 8 e così per tutti gli altri contenitori però cambia il numero per esempio i viola partiamo da 2 fino ad arrivare a 5 i viola ricordiamo che sono la frutta oppure per esempio il giallo anche lì partiamo da 2 per arrivare fino a 5 mentre anche i cucchiaini si parte da un 3 e arriviamo fino a 8 mentre invece il blu e l'arancio rimangono invariati per tutte le fasce e sono sempre uno solo al giorno vi assicuro che la prima volta che voi vedrete questi contenitori che vi arrivano a casa e guarderete e direte cavolo ne posso mangiare solo 4 ma sono pochissimi vi assicuro che non è così a vederli direte ah ma sono pochissimi ma quando poi le andrete a riempire e riempierete il vostro piatto io vi assicuro che direte oh mamma mia quanto ho mangiato ve lo assicuro perché l'ho fatto io è successo a me e quindi vi sto parlando di una cosa che è così il primo impatto è come sono piccoli questi contenitori farò la fame e invece no io vi assicuro che mangerete ma vi aiuterà ad raggiungere il vostro obiettivo poi quindi cosa succede? a questo punto una volta che voi avrete calcolato in che fascia siete è il momento di iniziare la prima cosa da fare sarà andare a fare la spesa sicuramente fin lì non ci piove ma poi dobbiamo barattolare ci sono anche ci sono tre categorie oltre a quelli che sono i free food cioè cibi che sono free che potete mangiare come volete ovviamente ragionando per esempio una di quelle che a me prima non piacevano e adesso invece mangio è la senape non è che ne potete mangiare un barattolino intero ecco capito? poi la seconda sono le bevande che oltre a quelle libere ci sono quelle che possono essere considerate una sostitucione quindi voi avrete delle bevande che potrete consumare sostituendo però uno dei barattoli per esempio il latte vaccino ok? non è che non lo potete mai più bere in assoluto no? lo potete bere ma andrà a sostituire un determinato contenitore cioè in quel giorno lì se voi decidete di bere il latte e per esempio il latte è considerato giallo voi quel giorno lì avrete un giallo in meno se berrete un bicchiere di latte quindi non mangerete quel giallo di pasta ma l'avrete bevuto di latte per esempio e poi vabbè la terza sono i dolci ma con il tempo si sono create tantissime ricette che sono assolutamente in linea con il programma e quindi che si possono barattolare e vi assicuro che sono buonissimi ma anche lì ve lo assicuro non perché voglio farvi pubblicità perché a me in tasca non viene niente ve lo assicuro perché li ho assaggiati li ho provati io e sono buoni quindi si possono mangiare anche i dolci infatti sul gruppo troverete un sacco un sacco un sacco di cose di ricette di ricette buonissime a questo punto che cosa ci metto dentro c'è nella guida troverete anche tutta la lista di tutti i cibi che si possono mettere dentro i contenitori c'è scritto contenitore verde e sotto tutta la lista di tutti i cibi che ci potete mettere dentro alcuni cibi sono per capienza quindi per intenderci certe verdure voi le dovrete mettere qui quelle che ci stanno qui voi le potete mangiare altre invece sono proprio a numero per esempio melanzana che in genere è molto grande un verde è mezza melanzana ora dipende da che melanzana prendete comunque in genere è difficile che le melanzane sono grandi comunque e quindi sempre ritornando alle ricette pensate a cosa potreste fare con la melanzana sono sicura che vi piace e fatemi sapere nei commenti se avete capito e quindi c'è tutta la lista ok poi si passa al contenitore viola anche qui vale lo stesso discorso ci sono frutti che si misurano infilandoli semplicemente dentro esempio le ciliegie voi le mettete qui dentro se qui dentro ci stanno venti ciliegie voi potrete mangiare venti ciliegie ci sono anche frutti che invece tipo la mela una mela è un viola e quindi è così cioè punto e niente poi le ragazze col tempo hanno anche aggiunto altre cose che sicuramente faranno felici tutti quanti anche me poi nel contenitore rosso qui la scelta è veramente vastissima perché ci ci andrà la carne il pesce le uova gli yogurt quelli ovviamente magari un po' più magri insomma e tutte tutte quelle cose che sono comunque considerate proteine anche qua nel tempo fortunatamente la lista si è allungata perché all'inizio vi assicuro che non è che la scelta era poca però erano quelle punto invece col tempo poi per fortuna si sono si è ampliata e quindi veramente una persona ha l'imbarazzo della scelta può mangiare diverso ogni giorno ogni pasto e quindi non stufarsi mai e soprattutto oppure se a una persona una determinata cosa non piace ma ne preferisce un'altra andrà a mangiare non dico proprio sempre quella però comunque può farla tranquillamente è sempre meglio variare questo lo dice anche Bibi però se a uno per esempio il pesce non piace non mangerà il pesce mangerà tante altre proteine ne mangerà altre poi c'è il contenitore giallo bene nel contenitore giallo ci sono tutti i carboidrati anche qui vale la stessa cosa vale la stessa cosa quindi ci saranno cose che andranno misurate dentro e quelle che ci stanno ve le mangiate Bibi consiglia tutti quei cereali che sono piccoli e ve lo consiglio anche io perché ce ne stanno tantissimi e quindi vi riempiono tanto perché l'effetto visivo è quello che ci gioca di più scherzi quindi se noi vediamo un bel piatto che ci sembra grosso ci sembrerà di mangiare di più invece noi mangeremo esattamente come dice il nostro piano alimentare il nostro regime alimentare ma se voi vedete quattro paste la vostra testa penserà oh mamma mia sto manando pochissimo mentre invece se voi vedrete un bel contenitore giallo pieno di couscous per esempio rovesciato dentro il piatto pieno di verdure di proteine sicuramente la vostra testa dirà oh mamma mia ma quanta roba ce la farò a mangiarla tutta ecco anche qui ci sono alimenti che invece hanno una determinata porzione per esempio il pan carré o il pan bauletto in generale tutto il pane grissini gallette queste cose qui mentre invece gli altri alimenti più o meno si misurano quasi tutti qui dentro ma anche qui ci sono delle interessanti novità e quindi sono sicura che anche qui abbiamo una vastissima scelta e anche qui possiamo mangiare veramente vario per non stufarci mai poi passiamo al contenitore blu il contenitore blu abbiamo detto è quello dei grassi buoni e dei formaggi i grassi buoni intesa come frutta secca qua invece come frutta secca ci sono i c'è proprio il numero di mandorle o nocciole che possiamo mangiare e quindi quelle sono punto mentre invece per quanto riguarda i formaggi vale come per gli altri si riempie il barattolino quello che ci sta dentro ve lo mangiate poi c'è il contenitore arancio che invece è per i semini e per le olive le olive hanno un numero fisso mentre invece i semini riempite e poi ve li divedete nella giornata come preferite per esempio se vi fate l'insalata potete magari mettere metà contenitore a pranzo per dire metà contenitore a cena per esempio poi nei cucchiaini invece ci vanno tutti gli oli e i burri compreso il burro da frutta secca oppure il burro di semi che non sapevo ci fosse dovrò cercarlo perché mi interessa poi ci sono anche invece i free food come vi dicevo prima quindi quegli alimenti che possiamo mangiare come vogliamo ce ne sono parecchi anche qui vabbè l'acqua ovviamente cioè non è anche dirlo voglio dire l'acqua dovete invece bella ce ne sono altri che sono anche tipo aromatizzanti per esempio come la cannella anche qui sempre usando il buon senso non è che potete farvi per esempio una torta in tazza o il pancake a metterci un barattolo di cannella anche perché vi sfido a mangiarlo però e poi anche le spezie gli aromi e come vi dicevo prima appunto la sena perché non mi piaceva ma con questa cosa qua che è free la metto spesso nell'insalata invece dell'olio e tengo i cucchiaini per usare il burro di arachidi da mettere nelle cose nei dolcetti che mi avete anche visto fare per merenda c'è il burro di arachidi dentro e vengono spaziali e ce ne sono nuovi in arrivo che non vedo l'ora di provarli poi appunto come dicevo vabbè le bevande ci sono delle cose cose che vanno usate insomma con moderazione cose che invece andrebbero proprio evitati poi ci sono appunto le sostituzioni che riguardano sia bevande come i vari latti sia diciamo quelle frutte che sono frutte ma sono tipo essiccate quindi piene di zuccheri si possono mangiare ma come vi dicevo prima andranno a sostituire altre cioè un barattolo di un altro colore una cosa che sono sicura anche vi farà felici è sempre nelle sostituzioni però c'è anche il cioccolato fondente ovviamente io non lo mangio perché come vi dicevo a me non piace il cioccolato però a molte persone piace quindi magari quella coccola magari dico tipo mi tengo che so quel barattolo lì ma lo tengo alla sera e mi mangio il mio bel pezzettino di cioccolato poi per esempio la dose raccomandata ma questo qui in generale non solamente da questo regime alimentare è l'acqua bisognerebbe bere almeno un litro e mezzo due litri d'acqua io sto lavorando ad arrivare a un litro e mezzo tutti i giorni ma è veramente molto difficile per me adesso che inizio a far caldo un po' di più ma se no d'inverno per me è proprio difficile e poi ci sono delle idee per aromatizzare l'acqua per indurci averne di più non le ho mai provate perché comunque a me l'acqua piace in realtà così com'è però è proprio una questione di aver sempre mille cose da fare e poi mi dimentico di bere arrivato alla fine del programma praticamente diciamo che se una persona decide di seguire il programma per dimagrire ok però arrivato al suo obiettivo deve trovare un modo per mantenerlo perché altrimenti cioè non è che puoi continuare a dimagrire insomma per capirci no quindi uno arrivato al suo obiettivo avrà un altro calcolo da fare per fare praticamente il mantenimento perché è importante comunque avere uno stile di vita sano anche viste le cose che comunque stanno capitando se uno fa attività fisica regolarmente che anche qui è assolutamente raccomandata come in tutte le diete piani alimentari nutrizioniste da cui andrete vi dirà mi raccomando però fai anche dell'attività fisica integra anche con del movimento ecco perché se no non serve diciamo a niente ma c'è un'altra cosa che dice sempre bibi che è che l'80% lo fa l'alimentazione quindi se uno mangia bene è sano avrà degli ottimi risultati io posso parlare per me io mangiando sano e pulito ho dei risultati ottimi nei momenti in cui tu entri in questo meccanismo impari anche ad avere occhio per quello che ha le porzioni per esempio vi faccio un esempio che ho testato io i pomodori nel verde io ho visto che i due pomodori grappolo più o meno di media dimensioni diciamo tagliati a quadratini devo farli piccoli perché comunque avendo i bambini piccoli non è che posso fare pezzi giganti due pomodori mi riempiono il verde quindi poi vi viene d'occhio quindi per esempio i pomodori non li misuro più se io voglio mangiare due verdi di pomodori so che tagliandomi quattro pomodori io avrò due verdi comunque nei momenti in cui quindi poi alla fine del programma anche voi avrete comunque raggiunto una certa un certo equilibrio vi sarete fatte le vostre appunto come ho fatto io considerazioni avrete imparato ad occhio a capire quanto è quello che sta lì e inizierete anche ad usarli meno oppure potrete tranquillamente continuare ad usarli nessuno vi dirà ecco vedi non è capito niente no tanto sono lì sono i vostri e vi aiutano a mantenere il controllo delle porzioni perché il problema come diceva anche bibi vabbè la qualità sicuramente sì ma soprattutto è la quantità se tu mangi poco ma di tutto è una cosa se tu mangi tanto ma di tutto è un'altra infatti qua come vedete non viene tolto niente noi possiamo mangiare il formaggio possiamo mangiare il burro di arachidi possiamo mangiare tutte le proteine possiamo mangiare i carboidrati che invece molte diete li levano l'importante è non esagerare se tu esagiani non va bene quindi anche la pasta per esempio sulla pasta che va nel giallo io vi consiglio anche qui provato da me cercate formati piccoli mezze penne gnocchetti sardi così ce ne stanno di più e visivamente guardando nel piatto la vostra testa dirà però è tanta perché? perché la pasta è piccola se voi mi andate a mettere dei tortiglioni qua dentro ce ne staranno 9 forse 12 ma non ne sono sicura quindi appunto col tempo imparerete poi in fondo come ultima pagina della guida troverete anche la corrispondenza dei contenitori tra questi contenitori qui e le cap americane se per caso avete quelle in casa potete anche usare quelle senza comprare i contenitori e poi come appunto c'è scritto qua dice che il piano è stato concepito in combo con un allenamento che si chiama 21 day fix e quindi diciamo che o comunque un qualsiasi altro workout quindi l'importante diciamo è abbinarci anche dell'attività fisica perché fa benissimo corpo e mente e anche questo lo dice sempre Bibi solo che io sono un po' gnocca e prima o poi riuscirò anche a partire con l'attività fisica con calma riuscirò a fare tutto però comunque diciamo che fa bene anche alla mente se noi ci poniamo un obiettivo poi anche darci un premio non per forza quando abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di peso ma per esempio io me l'ero dato poi non l'ho mantenuto così ho perso il premio se io riesco a mangiare pulito per due settimane mi concedo per esempio qui dice un pasto può essere anche tipo non so una merenda mi prendo io per esempio vado matta per la ciambella si stanno volando per la ciambella cannella e caramello del McDonald's e quindi il mio premio era quello la mia sfida il mio obiettivo era se riesco a mangiare pulito fino a fine marzo posso mangiare una ciambella poi è successo quello che è successo e la ciambella non avrei potuto mangiarla comunque io ho perso un po' il treno e quindi la ciambella mi è saltata anche adesso che potrei andarmela a prendere quindi la mia nuova sfida adesso è riuscire a mangiare pulito quindi seguendo bene la portion control diet fino al mio compleanno se io riesco a mangiare pulito fino al mio compleanno ma domani partiamo da dopo domani perché domani è il compleanno di pia e devo per forza mangiare la torta faccio la crostata con la frutta con le fragole e non la mangio dopo domani e quindi comunque se riesco a mangiare pulito senza sgarri da qua fino al mio compleanno per il mio compleanno il mio premio sarà questa benedetta ciambella quindi io spero di avervi dato le informazioni che cioè Francesca spero di aver dato le informazioni che voleva avere quindi una spiegazione diciamo blanda di questo regime alimentare per avere la guida dovete andare assolutamente sul gruppo facebook e scaricarla se non siete registrati a facebook potete registrarvi e anche cioè entrare nel gruppo e così vi scaricate la guida in altro modo io non so come fare altrimenti potete andare a cercare le informazioni su internet la trovate la trovate in inglese però la trovate a tal proposito ci sono anche le applicazioni le trovate nel play store molto utili per tenere il conteggio dei barattoli che consumate durante il giorno un'applicazione che ho io divide proprio in colazione spuntini pranzo e cena e in modo che voi sapete quello che avete mangiato e quanti contenitori avete mangiato quanti ne potete ancora mangiare quindi mi sembra molto comodo qui sotto in infobox vi lascio anche il video di Claudia Carturan anche lei ha parlato della portion control diet Bibi e Claudia sono state un pochettino più brave probabilmente di me io ho fatto questo video per spiegarvi come funziona il regime alimentare che sto seguendo perché capisco che vedere il video di cosa mangi in un giorno io vi dico questo qui è un barattolino rosso questo qui è un barattolino verde voi dite ma questa cosa è dare i colori invece che i numeri e quindi ho voluto fare questo video per spiegarvi spero che vi sia stato utile io volevo ne approfitto di questo video se siete arrivati fino qui intanto vi invito a mettere come commento un pollice in su anche così mi fate capire che siete arrivati fino qui in fondo e volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti perché siamo comunque 526 l'ultima volta che ho guardato e probabilmente anche quando voi guarderete questo video perché non è che stiamo crescendo in una maniera vertiginosa ma ringrazio tutti voi che siete iscritti tutti quelli che ci seguono che commentano ogni nostro video spero che vi stiamo tenendo compagnia in questo momento particolare mi scuso anche se i video sono diciamo un pochettino rallentati ma le video lezioni sono aumentate notevolmente adesso le sto facendo anche Sabrina hanno anche messo un nuovo programma di potenziamento per aiutarli perché comunque diciamo che anche tipo Sabrina che è comunque dislessica ha bisogno di un po' più d'aiuto e anche io come mamma ho bisogno di aiuto per aiutarli e meglio anche loro quindi hanno creato anche questo programma quindi hanno delle video lezioni aggiuntive perciò praticamente siamo sempre con telefono o computer sul tavolo in azione perciò è per quello che sono rallentati un pochettino e anche perché comunque magari con questa fase 2 presumo che voi visto che adesso si può un pochettino uscire di più usciate noi appunto per le video lezioni siamo comunque chiusi in casa infatti volevo andare a fare le passeggiate ma si è un po' diciamo incastrato tutto bisogna anche fare i compiti perciò per il momento niente passeggiate vedrò di fargliele fare almeno sabato e la domenica perché sennò qui proprio diventano dei bambini seggiolini che stanno sempre seduti e non si muovono mai poi in più Maurizio è a casa perché lui soffre di gotta e gli è gonfiato un piede che sembra un pallone ve l'ho già detto vedrete poi che ve lo dirò anche nel video spesa e quindi c'è anche lui a casa perciò altro che passeggiate non riesce neanche a camminare e quindi niente perciò le passeggiate hanno fatto un salto anche loro però vabbè ne approfitto per fare tutte le altre cose che ho da fare vi assicuro che ce n'è tantissime tantissima roba da stirare tantissimo e quindi ne approfitterò per fare questo quando riuscirò a trovare un pochettino di tempo perché sono sempre ricorsi comunque io adesso vi lascio grazie per essere arrivati fin qui vi ricordo se siete arrivati fin qui mettete anche un ok così come manina così so che siete arrivati fino alla fine vi abbraccio tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video 1,2,3 come on come on come on ha ahhh ahhh ahhh